Sono Alessandra Favella e sono Managing Director di Team Office. Team Office è un System Integrator che ha sede a Roma, ma che opera su tutto il territorio nazionale. Siamo presenti in questo mercato dell'audio, video e controllo da oltre 30 anni. Quest'anno siamo per la prima volta al MIR e abbiamo voluto presentare una nostra soluzione integrata con i sistemi olografici. Questa soluzione è una soluzione software che è stata sviluppata dalla New Media Division che è una divisione proprio di Team Office che si occupa della creazione di contenuti per il digital signage, per il room booking, per il desk booking, per l'e-learning e per il content management. Quindi è una soluzione molto versatile che è venuta fuori per garantire ai nostri interlocutori e agli utilizzatori appunto una user experience elevata, quindi di qualità. e questo ha permesso di avere modo di utilizzare tutti quelli che sono i componenti hardware con più facilità e con maggior produttività.